Salve a tutti. Quest'anno sono stati riscontrati numerosi problemi durante la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche, soprattutto dalle graduatorie provinciali d'esaurimento. Graduatorie provinciali che avevano determinato errori sia nella valutazione dei titoli, sia nel mancato inserimento dei docenti specializzati su sostegno all'estero, su cui recentemente si è espresso il TAR del Lazio, rilevando che gli stessi devono essere inseriti anche se ancora non è stato rilasciato dal Ministero il decreto di equipollenza del titolo. Soprattutto in fase di operazione di convocazione sono stati registrati i maggiori problemi perché le segnalazioni sono state numerose sia nella nostra relazione sia da parte delle organizzazioni sindacali. Molti docenti hanno infatti lamentato di essere stati scavalcati nel conferimento degli incarichi da altri aspiranti con minore punteggio, soprattutto perché non erano state espresse determinate sedi scolastiche nella indicazione delle preferenze, ma erano state soltanto indicati i distretti o il comune o soprattutto perché erano state indicate soltanto le cattedre intere e non gli spezzoni piuttosto che le cattedre orario. Altre anomalie hanno riguardato, ad esempio, il conferimento degli incarichi ai beneficiari della legge 104 in maniera non del tutto regolare. Altra ipotesi che è stata segnalata riguarda le seconde convocazioni, cioè i docenti che sono rimasti privi di incarico durante le prime convocazioni non si sono trovati inseriti nei bollettini delle seconde convocazioni in quanto il sistema parte in automatico dal primo dei non convocati senza tener conto di chi ha ricevuto meno incarico nella prima fase. Tutte queste anomalie hanno portato naturalmente a rimostranze, lamentelle, reclami e su questo punto noi consigliamo a chi dovesse aver registrato qualche situazione anomala di questo genere e rimasto senza incarico di inviare un dettagliato reclamo all'ufficio scolastico territoriale che ha curato le operazioni, eventualmente anche richiedendo l'accesso agli atti e in particolare alla domanda con l'indicazione delle preferenze formulata dall'aspirante che ha ricevuto l'incarico al suo posto ed eventualmente qualora dovesse riscontrare effettivamente qualche problema, qualche anomalia, può rivolgersi al giudice del lavoro rivendicando il diritto al conferimento dell'incarico o addirittura al risarcimento del danno. Vi invito a seguire il nostro sito tecnica della scuola.it per essere costantemente aggiornati e seguire i nostri canali social. Arrivederci a tutti!